Un attimo e sono... Ah, sei tu. Solo un momento. Buongiorno, sto cercando... Una bacchetta, sì. Alla buon'ora. Sì, io... Alla buon'ora? Sei il nuovo studente del quinto anno, no? Ma che dico? Certo che lo sei. Il mio nome è Gerwald Ollivand. Ma di certo avrei già sentito parlare degli Ollivander, i migliori produttori di bacchette al mondo. È un piacere conoscerti, davvero. Su, vieni con me. Troviamo la bacchetta perfetta, d'accordo? No, 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 no. Tu no. Ah, sì. Sì. Nucleo potente, dieci pollici e mezzo. Dovrebbe andare. Tieni. Perché non provi questa? Forza, su, brandiscila. Che strano. Prova ancora, su. Brandiscila bene. Beh, direi che non ci siamo, eh? Non preoccuparti, la troveremo. No, tu no. Forse sì. Legno raro, tredici pollici e tre quarti, corda del cuore di drago. Proviamo questa qua, invece. Tu puoi tornartene dritta sullo scaffale. La cosa si sta rivelando più complessa di quanto pensassi. Non capisco, ehm, ehm, dove sei? Forse tu? Oh, ed eccoti qui. Sì, tu potresti essere quella giusta. Ecco, prendila. Che cosa ne pensi? Straordinario. Con questa bacchetta inizia il tuo brillante futuro nella magia. Allora, che impressione ti ha fatto? Buona, diversa. Ho percepito una specie di scarica di energia. Un buon abbinamento. Tra voi c'è una connessione potente. La bacchetta giusta imparerà da te tanto quanto tu da lei. Non vedo l'ora di provarla. Ottimo. Trattala bene. Non troverai bacchetta più affidabile di una con il nucleo di crina e di unicorno. E il legame tra voi due diventerà sempre più forte. Non sorprenderti se la tua nuova bacchetta sembrerà percepire le tue intenzioni. In particolare nei momenti di bisogno. Mi sembra fantastico, signor Ollivander. Ti lascerò alle tue cose, allora. Torna pure da me se mai dovesse servirti qualcos'altro. No. Tu sei o che cosa, allora. Grazie a tutti.